salve a tutti nella lezione di oggi ci occuperemo del gruppo prima di iniziare la lezione però voglio fare un saluto un saluto particolare ai nostri studenti tutti ma specifico agli studenti detenuti che so che da questa lezione avranno la possibilità di partecipare quindi anche di aggiornarsi sulle lezioni precedente noi abbiamo come università di catanzaro diversi studenti detenuti all'interno della casa circondariale di siano come corso di laurea in sociologia addirittura abbiamo 20 iscritti di cui credo 13 o 14 in alta sicurezza li saluto sapendo anche le difficoltà che affrontano per portare avanti i loro studi dicevo che nella lezione di oggi ci occuperemo di gruppo quindi passeremo al concetto di gruppo sociale che è un concetto particolarmente importante di questa prima parte del corso quindi per gruppo sociale diamo la definizione intendiamo un insieme di individui tra i quali si sono stabiliti di persona o a distanza processi di interazione sociale che mostrano una certa regolarità e dunque una certa misura di intensità e durata questa è la definizione come sempre ormai sapete come procediamo analizziamone gli aspetti più importanti quindi un insieme di individui un insieme di attori sociali tra i quali si sono stabiliti di persona o a distanza mai come oggi ci rendiamo conto di quanto si possono ottenere le relazioni sociali anche a distanza e quindi tra i quali sono stabiliti di persona a distanza processi di interazione sociale ricordiamoci che nel nostro corso utilizziamo il termine interazione sociale come sinonimo di relazione sociale quindi ogni volta che parliamo di interazione sociale sappiate che potete rifarvi alla definizione che abbiamo dato di relazione sociale questi processi di interazione sociale hanno delle caratteristiche perché ci sia un gruppo questi processi interazione sociale devono mostrare una certa irregolarità e dunque una certa misura di intensità e di durata vediamo quindi quali sono le principali caratteristiche dei gruppi sociali normalmente si realizzano con degli schemi relativi relativamente stabili quindi ci deve essere stabilità nelle relazioni ma noi già sappiamo chi permette la stabilità delle delle relazioni cosa permette la stabilità delle relazioni abbiamo già visto quando abbiamo definito i ruoli come ruoli rendendo prevedibile il comportamento altrui danno stabilità alle relazioni e quindi vediamo come c'è un forte collegamento tra il concetto di gruppo e quello di ruolo attraverso i ruoli viene permessa quella stabilità delle relazioni data dalla prevedibilità del comportamento altrui che permette la formazione di interazioni quindi stabili per la formazione di un gruppo devono esserci delle regole delle norme ancora non abbiamo dato la definizione precisa sociologica di norma di norma sociale ma quindi devono esserci delle regole almeno in parte condivise fino adesso abbiamo incontrato le regole soprattutto quando abbiamo parlato di ruoli le aspettative dei ruoli sono delle regole deve esserci una certa coesione sociale e deve esistere un'identità distinta cioè dei sentimenti di appartenenza ebbene queste che sono delle caratteristiche maggiormente riconosciute rispetto a ciò che in sociologia viene definito gruppo non sono altro che le principali caratteristiche individuate da probabilmente uno dei più grandi teorici sui gruppi parliamo di merton il quale distingue infatti due aspetti o due dimensioni dell'appartenenza al gruppo una dimensione una dimensione legata alla agli aspetti soggettivi o autodefinizione di appartenenza cioè è un'appartenenza legata alla definizione che gli attori del gruppo danno a se stessi in quanto appartenenti al gruppo stesso il noi l'altra intersoggettiva o definizione altrui di appartenenza è la definizione quindi che viene data degli altri che dicono quelli sono gli appartenenti al gruppo tal dettaglio al gruppo dei ragazzi del muretto entrambe quindi sia la definizione soggettiva che quella intersoggettiva sia il modo attraverso il quale gli individui appartenenti al gruppo sono consapevoli si definiscono si autodefiniscono come appartenenti al gruppo e l'intersoggettiva cioè il modo attraverso il quale gli altri definiscono come appartenenti a un gruppo gli attori che fanno riferimento a quel determinato gruppo entrambe queste definizioni concorrono a identificare e definire come gruppo una determinata collettività sociale e ciò ancora seguendo merton ma stiamo seguendo diciamo le caratteristiche che abbiamo già definito essere fondamentali perché ci sia un gruppo si verifica quando si verificano tre criteri c'è una frequenza stabile di interazione o relazione sociale l'altro criterio della definizione di se stessi come membri del gruppo autodefinizione della definizione di membro proveniente da altri sia interni che esterni al gruppo definizione intersoggettiva l'insieme degli individui che partecipa un sistema di interazione sociale condividendo valori comuni e soddisfacendo le aspettative di ruolo può venire identificato senz'altro come gruppo sociale quindi queste le principali caratteristiche del gruppo veniamo adesso a classificare un po i gruppi quindi dopo averli definiti proviamo a presentare alcune classificazioni sono decine le classificazioni possibili vi rimando al nostro manuale sicuramente al dizionario di sociologia il gallino altrettanto per approfondimenti sulle varie classificazioni che si possono dare dei gruppi ma anche ad altri manuali ci sono tantissime classificazioni io mi soffermerò soltanto su alcune classificazioni che possono essere particolarmente utili anche per capire se abbiamo capito il concetto di gruppo quindi si possono individuare almeno due tipi ideali di appartenenza secondo che essa si riferisca alla totalità della personalità in ruoli ovvero solamente ad alcuni limitati settori della personalità o a specifici ruoli dei membri del gruppo cioè se faccio parte di un gruppo all'interno dei quali del quale vivo come individuo come attore sociale la maggior parte dei miei ruoli sociali allora quello sarà un gruppo definibile come totalitario se invece vivo solo parzialmente una parte dei miei ruoli sociali all'interno di quel gruppo allora poi parlerò di un gruppo segmentale un gruppo all'interno del quale ho le relazioni principali di tipo affettivo tutti i miei amici le relazioni di tipo sentimentale la mia fidanzata le relazioni con tutti un gruppo formato principalmente anche dai dai miei colleghi di lavoro quindi relazioni lavorative un gruppo del genere dove vivo la dimensione affettiva la dimensione lavorativa la dimensione sentimentale è sicuramente un gruppo che potrà definirsi totalitario il gruppo si distingue da un aggregato sociale quindi qua faccio delle distinzioni terminologiche in modo tale che sappiamo quando incontriamo questi termini di che si tratta quindi il gruppo si distingue da un aggregato sociale ad esempio un insieme di individui che si trova nello stesso luogo oppure si distingue anche da una categoria sociale cioè lo strumento utilizzato a fini statistici l'aggregato sociale un insieme di individui che sono contemporaneamente che sono insieme nello stesso luogo è per esempio la folla i tifosi di una squadra all'interno di uno stadio per vedere una partita di calcio i spettatori di uno stadio si tratta di si tratta sicuramente di un aggregato sociale perché non sono individui in interazione men che meno stabile tra di loro alcuni sì senz'altro ma nel loro complesso appunto è un aggregato sono un insieme di individui che si trovano nello stesso luogo contemporaneamente altra distinzione che abbiamo che abbiamo fatto quindi quella anche tra individui che appartengono ad una categoria sociale la categoria sociale non è un gruppo sociale la categoria sociale uno strumento utilizzato a fini statistici gli anziani di una statistica non sono interazione tra di loro ma anche almeno sono in interazione stabile tra di loro i giovani di una rappresentazione statistica di un'indagine statistica non sono interazione anche meno stabile tra di loro ma fanno parte appunto di una categoria sociale continuando questa nostra carrellata possiamo distinguere i gruppi anche tra primari e secondari i gruppi primari sono di piccole dimensioni a ruoli diffusi con contenuti affettivi e molto personalizzati i ruoli diffusi appunto sono quelli sociali diffusi sono quelli non perfettamente definiti in famiglia i ruoli sono diffusi perché magari in qualche famiglia sì però in genere non c'è una suddivisione ben precisa delle cose da fare chi fa cosa un giorno la può fare una persona un giorno la può fare un'altra altra alcune cose poi dipende dalla cultura di riferimento le fa sempre la stessa persona però in generale i ruoli sociali all'interno di una famiglia sono di tipo diffuso ed è questa una delle caratteristiche che vediamo una delle caratteristiche principali dei gruppi primari di essere piccole dimensioni ruoli diffusi con contenuti affettivi la famiglia il gruppo di amici sono tipici normalmente gruppi primari che significa tipici normalmente perché dipende poi dal gruppo se ci fosse una famiglia in cui c'è una gerarchia rigidissima una suddivisione di mansioni precisa per cui una persona butta sempre l'immondizio un'altra lava sempre i piatti un'altra si occupa di procacciare il cibo eccetera eccetera se ci fossero ruoli così ben definiti in questo caso una famiglia del genere non avrebbe le tipiche caratteristiche di un gruppo primario ma piuttosto inizierebbe ad avere alcune delle caratteristiche di quelli che sono invece gruppi secondari che però sono comunque caratterizzati da grandi dimensioni ruoli specifici relazioni più fredde e spersonalizzate ad esempio in in un'azienda quindi gruppo primario famiglia gruppi di amici normalmente secondario azienda ruoli dimensioni contenuti delle relazioni definiscono questi due tipi di gruppo continuando la nostra classificazione dei gruppi possiamo distinguerli anche tra formali e informali gruppi formali sono caratterizzati da uno statuto ad esempio un regolamento esplicito in vista di certi scopi mentre i gruppi informali si formano in modo spontaneo e senza che siano state fissate regole precise per il suo funzionamento a questo punto voglio farvi un esempio di gruppo di studio di gruppo è un esempio che vi accenno è il gruppo di un gruppo di senza dimora che ho studiato per alcuni anni all'interno del quale mi sono inserito stiamo parlando di del gruppo di saeed sai del leader del gruppo è un leader carismatico quindi qua vedremo in azione un po di concetti in questo esempio che vi faccio molto breve comunque lascerò all'interno del sito del sito della didattica online un articolo appunto scientifico che ho pubblicato proprio su questo studio in modo tale che avrete anche la possibilità oltre che andarvi a studiare i contenuti diretti che vi presento in questa lezione andare a studiare come si può rappresentare sociologicamente un gruppo sociale all'interno di una ricerca e quindi potrete vedere in azione tutti possiamo dire veramente tutti i concetti sociologici di base fin qui adoperati da quello di azione sociale appunto a quello di gruppo il gruppo di saeed è un gruppo di senza dimora che agisce nella piazza principale di trento è una piazza di fronte alla stazione come molte piazze di fronte alla stazione è una piazza dove passano tantissime persone tutti i giorni decine centinaia di persone tutti i giorni ma è una piazza anche abitata costantemente da persone senza dimora che in quella piazza appunto mettono in atto tutta una serie di strategie di sopravvivenza è una piazza molto bella in particolare quindi non da questo punto di vista è diversa da molte piazze di fronte alle stazioni c'è un laghetto è una piazza tenuta a parco all'interno di questa piazza ci sono i veri padroni della piazza sono gli attori del gruppo di saeed quindi utilizziamo il termine gruppo in questo caso proprio nell'accezione che abbiamo appena dato quindi quella legata alla definizione di gruppo un insieme di persone tra le quali si sono stabiliti di persone in questo caso di persone non a distanza delle dei processi di interazione sociali particolarmente stabili intensi e duraturi si tratta di un gruppo di 12 persone un gruppo molto eterogeneo di persone senza dimora che sono caratterizzate tutte da una forte marginalità sociale in questa tabella vengono rappresentate alcune caratteristiche socio anagrafiche degli attori del gruppo dall'età la provenienza il tipo di religione la religione di riferimento livello di istruzione stato civile come dicevo prima tutti comunque sono accumulati da pur essendo un gruppo molto eterogeneo da forme di disagio molto gravi quasi tutti sono senza dimora saeed leader è un affetto da una grave malattia un portatore di handicap e senza gambe una malattia incurabile che si chiama morbo di burger nonostante questo suo incredibile fortissimo handicap è un leader che riesce a controllare le relazioni del gruppo utilizzando un vero e proprio esercitando un vero e proprio potere carismatico ricordiamoci quello che abbiamo detto sul potere carismatico e quindi sulle sulla quella capacità di ottenere obbedienza in base a delle qualità straordinarie che ti vengono riconosciute nel caso di saeed ha diverse qualità straordinarie prima fra tutte quella che viene riconosciuta di sopravvivere nonostante il suo fortissimo handicap in una situazione di vita estrema sopravvivere per strada senza gambe è una qualità straordinaria di saeed un'altra qualità straordinaria è quella di riuscire a mettere in contatto è un grandissimo mediatore sociale mediatore sociale mettere in contatto le persone più disparate le culture diverse che vivono la strada saeed viaggiato tantissimo per tantissimi anni in giro per il mondo conosce tante lingue conosce tanti modi tante culture diverse attraverso questa sua capacità di mettere in contatto le persone che ottiene anche un grande profitto ma non vado più di tanto nel dettaglio questo gruppo di piazza dante ve lo presento principalmente come appunto esempio di studio di un gruppo sociale quindi per dare un po di vita a questi concetti che altrimenti spesso possono restare rischiano di restare un po astratti e senza vita modo per rappresentare i gruppi è quello di rappresentarne per esempio le posizioni sociali la questa è la stratificazione di influenza all'interno del gruppo abbiamo rappresentato attraverso questo diagramma le posizioni più basse che sono quelle di giuseppe fabrizio maria e marco le posizioni intermedie quelle di carla luigi e michela la click dei capi quindi quelle più alte vicino al leader ma bruca zizze claudio ruben e in cima a tutti c'è saeed che è il leader indiscusso del gruppo ad ognuna di queste posizioni e qui ci viene in aiuto un altro concetto ad ognuna di queste posizioni corrispondono delle aspettative sociali che definiscono appunto i ruoli all'interno del gruppo quindi esistono dei ruoli ben precisi assegnati associati alla posizione occupata da coloro che occupano le posizioni più vicine al leader i luogotenenti ma bruca zizze claudio ruben ci sono delle aspettative sociali ben precise rispetto a carla luigi e michela per le posizioni che loro occupano posizioni intermedie ci sono delle posizioni delle aspettative sociali legate alle posizioni marginali quelle più basse come vedete nel diagramma interpretate da giuseppe occupate posizione occupate da giuseppe fabrizio maria e marco un altro modo di rappresentare le relazioni del gruppo lo vediamo qui con la click dei capi quindi qua ci prendiamo in prestito dalla network analysis prendiamo in prestito il modo attraverso il quale si possono rappresentare le relazioni di piccoli sottogruppi quella click dei capi e quella composta da saeed dei luogotenenti abbiamo saeed claudio azizze ruben e mabruck questa stessa rappresentazione che ci deriva dalla network analysis può dare luogo a un'altra rappresentazione delle relazioni sociali che nel corso della mia ricerca mi ha permesso di individuare il modo attraverso il quale la click dei capi è quel sottogruppo del gruppo di piazza dante che principalmente tiene i rapporti con l'esterno del gruppo e infatti attraverso la click dei capi delle loro relazioni esterne che vediamo come il gruppo riesce a ottenere tutta una serie di beni importanti per il gruppo materiali di vario genere che poi vengono portati all'interno del gruppo beni provenienti dalle relazioni con altre categorie sociali per esempio adolescenti e spacciatori stranieri in questo caso è saeed come vedete dal dalla figura che tiene principalmente questo tipo di relazioni poi abbiamo a ziz che è un po il più giovane della click dei capi che rappresenta un po le le gambe diciamo così di saeed tiene il rapporto con gli islamici mabruck un po il filosofo del gruppo un alcolista che tiene i rapporti con gli islamici anche egli poi abbiamo ruben che fa il lavoro sporco tiene il lavoro e tiene i contatti con i tossicodipendenti che per lo più sono italiani nel periodo di osservazione di questo gruppo di persone che vivevano per strada poi abbiamo claudio che è l'unico italiano della click dei capi che infatti tiene in modo privilegiato i rapporti tra il gruppo di piazza dante e gli italiani tutte queste relazioni si sviluppano all'interno di questa piazza che vicinissima al centro sto dalla cera la piazza più nota quella più storica piazza duomo di di trento ma è appunto una piazza di fortissimo passaggio perché vicinissima alla stazione dei treni la stazione dei corrieri delle corriere e dei principali punto mezzi di trasporto comunicazione parlando ancora della vita di strada poi studiato ma tutte queste cose appunto le potrete vedere nell'articolo che metterò allegato alla lezione tutta una serie di attività di azioni razionali rispetto allo scopo azioni razionali rispetto allo scopo che permettono a questi attori di strada di sopravvivere per strada proprio seguendo quelle che sono le caratteristiche dell'azione razionale rispetto allo scopo cioè di essere delle azioni che puntano lo scopo della sopravvivenza che ovviamente è quello lo scopo principale di chi vive per strada in condizioni di vita estrema scegliendo gli strumenti più adeguati proprio nel senso webberiano del termine per il perseguimento di quello scopo bene termina qui la nostra lezione di oggi oggi abbiamo parlato quindi di gruppi sociali è un concetto importantissimo che come già abbiamo visto nella lezione ci permette di collegare tra loro diversi forse potremmo possiamo già dire tutti i concetti sociologici di base fin qui trattati ci vediamo una volta prossima la prossima lezione con un nuovo concetto sociologico di base vi ringrazio per l'attenzione e buono studio